Ragazzi, buon sabato santo a tutti. Cari italiani, purtroppo non ci siamo. Perché? Perché da una parte, io ieri ho fatto un video inerente a questo, ci vuole tanto dire che Meloni e Salvini hanno detto una cazzata l'altra sera? Penso di no. Dall'altra parte, però, non ho sentito e visto nessun attacco ai media, perché se noi ricordiamo l'altra sera, tutti i principali media, ok? Dalla 7 a tutte le televisioni, ai giornali, ai giornali online, a Skype TG24, a tantissime altre emittenti, tutti hanno riportato della firma del MES. Ok? Tutti, tutti e nessun attacco ai giornali e tutti hanno attaccato Meloni e Salvini. Ieri ho detto che questo MES è stato firmato nel 2012 da parte di molti paesi dell'Unione Europea, tra i quali appunto anche l'Italia. Il governo, però, era quello di Monti. La Lega votò completamente contro, ok, al MES, e se non sbaglio la Meloni non c'era nemmeno quando si votò contro o contro a favore del MES. Quindi, anche qua, si sono dette tante cazzate. Però, da qui poi a dire, ok, Meloni e Salvini hanno sbagliato l'altra sera, sono stato il primo a dirlo. Però da qui a esaltare Conte, a esaltarlo, fuori maniera, ce ne passa. E perché ce ne passa? Tra l'altro ho dovuto banare uno, perché comunque, ragazzi, allora, il governo non sta facendo quello che bisognava fare. Perché è vero, non hanno firmato ancora nulla, ma si continua a dire di questi 600 euro, 600 euro, ok, a quelli che se non sbaglio hanno partita IVA o agli autonomi, molti devono ancora vedere questi soldi, che sono pochissimi, pochissimi per chi magari ha dipendenti e ha dovuto mettere in casa integrazione dei dipendenti. Sono pochissimi 600 euro, pochissimi, ok. Però qua, sembra che dopo il discorso di Conti di ieri, ho anche il discorso con qualche mio amico, sembra che abbiano dimenticato i soldi che dovranno versare poi, i soldi che l'acqua alla gola che avranno poi. Perché queste cose se le dimenticano, perché purtroppo per il populino basta un discorso del cazzo buttato lì in piena TV nazionale, perché ragazzi, la RAI non è una TV privata di Conte, come poteva essere Mediaset per Berlusconi, è una TV pubblica, pagata profumatamente da tutti i cittadini, anche da quelli che votano Lega e Fratelli d'Italia, che tra l'altro, la Lega, ripeto, è il primo partito, quindi di fatto adesso al governo non c'è la maggioranza, ok. E quindi se tu fai un qualcosa contro il primo partito, perché abbiamo visto gli europei, il primo partito adesso in Italia è la Lega, di fatto fai un qualcosa che non è proprio democratico, diciamo così, o comunque logico. Perché io penso che loro abbiano i numeri di telefono di tutti i politici e parlamentari, basterebbe fare ogni tanto, non dico sempre perché vabbè, ogni tanto basterebbe fare il numero e chiarire le cose telefonicamente e privatamente, invece che fare tutto questo cinema, ma tutti ci metto in mezzo, destra, sinistra, centro, no, su, giù, quello che volete. È sbagliato dal principio. Poi arriviamo a quello che andava fatto, probabilmente bisognava chiudere tutto prima, l'ho già detto ieri, per poi ripartire prima. Chi dice che il governo e Conte sta facendo un ottimo lavoro? Probabilmente non ha visto e non ha presente cosa sia la realtà, evidentemente. Anche perché, adesso vi dico un po' di cose, il governo ha chiuso i porti perché non sono più porti sicuri, cioè alla fine noi non siamo più porti sicuri, comunque non voglio tornare sul discorso di immigrazione, però hanno chiuso i porti, ma secondo voi si sono fermati gli sbarchi? Ma assolutamente no. Perché qui in Italia purtroppo c'è questa norma, questa norma, questa ormai, diciamo, questo modo di fare, ok, che le leggi vengono fatte, ma non vengono fatte rispettare, a meno che appunto tutto non sia povero, disperato, distrutto. Perché qua, la legge, l'unica legge che c'è in questo paese è fare i forti con i deboli, i deboli con i forti, punto. Questa è la verità. Perché contro i deboli è facile fare la voce grossa. Quando devi prendere posizione per il bene veramente del tuo paese, tiri il culo indietro. Tu hai fatto una legge, hai fatto un nuovo decreto nel quale scrivevi che i porti da quel momento in poi erano chiusi, ok, e continuano gli sbarchi, e allora c'è qualcosa che non va. Cioè se a Lampedusa si sono incazzati tutti, c'è qualcosa che non va. Perché noi abbiamo, stiamo vivendo una pandemia, e continuiamo a far sbarcare la gente nonostante ci sia un decreto. Significa che, ragazzi, veramente il nostro governo quando c'è da fare veramente la voce grossa non sa far rispettare le leggi e questa è una cosa molto più preoccupante di tutto il resto. Ok? Molto più preoccupante di tutto il resto. Perché adesso va veramente a finire il secondo piano. Queste frecciatine o cose del genere. poi, ripeto, tralasciamo tutto. Devono ancora firmare il MES. Ok? Ma le aziende, ragazzi, le attività, i dipendenti, i datori di lavoro, i soldi devono ancora vederli e continuano a pagare perché leggo e mi arrivano testimonianze che non sono state sospese le tasse. Che tra l'altro sospese, ok, le tasse, sospende le tasse. Cosa significa? Che non le annulli. Che quelle tasse arriveranno da pagare dopo. come se questo periodo qui non pesasse anche in futuro. Invece peserà anche in futuro. Non è che dopo finito questo periodo, questa cacciara veramente che speriamo di uscirci il prima possibile, la gente tornerà brillante, ricca. No, non è così. Non è così. Quelle tasse che dovrà pagare la gente, poi, peseranno molto. perché quelle persone, quelle attività, quei dipendenti, quei datori di lavoro avranno comunque meno incassi di prima e dovranno ripartire da sotto zero. Cioè, bisognava annullare le tasse perché qui veramente questo è il paese nel quale ci sono gli stipendi più miseri dell'Unione Europea, ok, e i contributi sono altissimi. Le tasse sono altissime e con tutti i contributi che ha versato il popolo italiano non riuscite voi a stanziare per una volta gratuitamente senza poi chiedere quei soldi in cambio, ok, chiedere che vengono restituiti in poche parole, non riuscite voi, il governo, a dare quei soldi al popolo italiano? allora significa che il bene dell'Italia a voi non interessa, perché il bene dell'Italia è il bene dei cittadini italiani, perché se i cittadini italiani vanno male, se tutte le attività italiane vanno male, va male il paese italiano. A voi probabilmente non ve ne frega un cazzo perché comunque avete i soldi, voi avrete sicuramente i soldi nascosti a destra e a sinistra. Vabbè, questo è il quanto ragazzi, no, volevo solo, e poi appunto volevo finire col discorso che state ancora tifando, è questa la cosa preoccupante, perché se da una parte vedo quelli che votano, lega, fratelli d'Italia, quant'altro, col paraocchi, che difendono a prescindere, che hanno fatto bene, quello che volete, dall'altra vedo e sbagliano nel difendere a prescindere Meloni e Salvini perché per me hanno sbagliato, ma ripeto, i giornali giornalisti che hanno fatto la cazzata più grande, non ho sentito una critica nei confronti loro e ieri Conte poteva fare una critica anche nei confronti dei giornali che comunque, ripeto, è sbagliato perché una TV di Stato in un'emergenza del genere la usi per dare delle direttive e per emanare il nuovo decreto. Punto. Non per attaccare l'opposizione senza possibilità di contraddittorio quando tu, tra l'altro, hai bocciato tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione. Non perché erano sbagliati, semplicemente perché arrivavano dall'opposizione. Questo è il problema. E c'è chi mi dice ma il gioco delle parti il gioco delle parti in questo momento non va fatto perché evidentemente allora a loro non interessa un cazzo del paese da una parte e dall'altra. Punto. Allora prendiamo le nostre considerazioni e poi facciamo quello che dobbiamo fare. Finito tutto questo. Anzi perché se i soldi non arrivano poi puoi dire quello che vuoi alla gente di rimanere a casa ma se la gente non ha i soldi per mangiare poi è normale che la gente scenda in piazza. È normale. Puoi dire no, no, non si può scendere non si può andare in giro di qua di là per tutto quello che sta succedendo ma se tu non dai i fondi a questa gente per rimanere in casa per vivere o quantomeno sopravvivere puoi fare quello che vuoi poi. Ma la gente ripeto gli italiani non hanno fatto alcuna rivolta negli ultimi 20-30 anni diciamo consistente semplicemente perché il governo è stato furbo qualsiasi governo ci sia stato è stato furbo ha sempre messo il popolo italiano in un limbo cioè in un limbo nel quale comunque l'italiano medio aveva qualcosina da perdere ma la percentuale di gente che non ha nulla da perdere sta aumentando detto questo ragazzi io vi auguro veramente buona giornata a tutti ci vediamo al prossimo video però veramente smettetela di fare il tifo abbiate le vostre idee ma se il politico che avete votato sbaglia abbiate il coraggio di dirlo vabbè Conte nessuno l'ha votato eh ma non si vota il governo si vota il Parlamento infatti io sono dell'idea che bisognerebbe fare una repubblica presidenziale cioè che tu possa avere la possibilità di votare direttamente Presidente così tutte queste stronzate che girano eh ma tu voti il Parlamento poi in Parlamento ci sono altre 900 teste poi fanno quel cazzo che vogliono al di là del popolo che li ha votati ok poi appunto votano chi vogliono loro fanno alleanze con chi vogliono loro è uno schifo quindi io andrei veramente sul fatto che il popolo debba avere la possibilità di votare direttamente la persona ok che governi questo insomma che governi questo paese ecco fine buona giornata a tutti